Comics al centro è un imponente progetto di entertainment a tema comics capace di teletrasportare magicamente tutti i clienti all'interno di un mondo cinematografico e surreale. I protagonisti dell'evento sono i cosplayers più belli e realistici di tutta Italia i quali saranno disponibili per scattare gratuitamente delle indimenticabili foto lungo tutta la location e animeranno il pubblico presente con degli incredibili live show. Tra le tantissime scenografie a tema tutti i clienti potranno visitare in particolare il mantello di Doctor Strange appeso magicamente all'interno di una teca di cristallo, l'armadio di Iron Man che custodisce le reali armature indossate nella sua trilogia oppure il tavolo delle reliquie che espone una riproduzione fedele degli oggetti usati dai supereroi più famosi. Inoltre si potrà visitare l'incredibile riproduzione di War Machine, il muro di Hulk spazzato via dalla potenza dei suoi muscoli, l'esclusivo laboratorio di Tony Stark, il marchio gigante degli Avengers, la famosissima gabbia di Harley Quinn, l'accattivante caverna di Batman e tanto oltre ancora. Tutti i clienti potranno sfidarsi direttamente con gli Avengers come ad esempio volare tra i grattacieli come Spider-Man grazie ad un visore per la realtà aumentata, cercare di sollevare il pesantissimo martello di Thor, colpire Ultron con il famosissimo arco di occhio di Falco e sfidare Capitan America cercando di sbilanciarlo con la lancia dei gladiatori. I bambini, una volta superate tutte le sfide, riceveranno il meritato Diplom Avengers, consegnato direttamente dal proprio eroe preferito. A completare l'evento ci sarà l'esclusivo live show della Cartoon Band che farà cantare a tutti i presenti le bellissime sigle dei cartoni animati più famosi regalando un'esperienza divertente ed indimenticabile. Contattaci per prenotare il tuo evento comics al centro.